Bene, è scattata l'ora solare, apriamo con un sorrisone anche perché oggi è mercoledì. Che cosa si fa il mercoledì? Tutti voi su TV2000 si aspetta, oltre che seguire tutto il giorno la rete, si aspetta l'orario delle 20.55 quando scatta Canonico, seconda serie, con il nostro Don Michele, ovvero Michele la Ginestra, con attori e attrici bravissime e bravissimi che stanno intorno a lui. Adesso la dico bene. E' con noi Maria Teresa Pascale, comincio innanzitutto dal nome. Maria Teresa Pascale che interpreta, ben arrivata, grazie di essere con noi. Grazie dell'invito. Interpreta Angela, la perpetua, possiamo definirla così. Perché c'è chi dice la Maddalena e attribuisce il Maddalena a questo personaggio? Perché Angela è una donna che ha avuto una vita difficile, che ha commesso degli errori, che ha tentato di ripararli, di porre rimedio e che grazie all'aiuto poi di Don Michele e della comunità che si muove attorno a questa canonica è riuscita a ritrovare un posto. Un luogo in cui stare, ma un luogo anche mentale in cui stare. Maria Teresa Pascale la interpreta con tanta grazia, sofferenza, tenacia, perché attenzione, è una mamma Angela, di un figlio, Nicola. Sì, grande. Grande. Mentre invece lei è la mamma di un bimbo piccolino, ma poi ne parleremo. Poi ne parleremo. Come sempre una mamma che in questo caso, come sempre e come in questi casi, lei ha dovuto crescerlo da sé, questo ragazzo, questo Nicola. ha avuto questo bambino quando era ancora molto giovane, veramente giovane, aveva 16 anni, raccontiamo questa cosa nella prima stagione, e l'ha cresciuto da sola, senza l'aiuto di nessuno e poi dovendo quasi necessariamente commettere degli errori. Non ha avuto tanta scelta Angela, dovendo tirar su questo bambino. E quindi i primi anni trascorsi assieme a Nicola, a suo figlio, non sono stati facili. Ora entriamo immediatamente in canonico, anche perché vi facciamo vedere delle immagini. Però credo che per un'attrice sia particolarmente intrigante e giusto raccontare una storia che somiglia a tante storie, no? Ci sono tante storie così. E credo che questa sia la forza in generale di Canonico, di raccontare storie che sono tra di noi, con le quali ci si può rispecchiare, con le quali è facile vedere, provare un'immedesimazione. Quella donna potrei essere io, insomma, può dire qualcuno. Sì, perché la differenza tra noi e loro... Non sarebbe difficile trovarsi nella situazione di Angela. In questi giorni non è difficile che da una situazione tutto sommato normale, serena, poi ci si trovi in grandi difficoltà. Si vede bene a questo personaggio. Molto. Si vede. Si vede proprio. Molto, sì. Si finisce per vivere affiancati, no? Beh, ma sì, perché... Appunto, dicevo, scusate, è così improvvisa. No, 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 non è vietato. No, 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 è vero. Perché... Non è vietato. Mi viene da ridere nel contempo, perché il primo ingresso di Angela in Canonico, nella prima stagione, era con una scena... Angela è apparsa in una scena molto intensa, questo dialogo molto bello con Don Michele, in cui raccontava proprio la difficoltà del suo incontro con la maternità e il motivo, quindi, anche per cui questo figlio poi non è più accanto a lei. E io ho fatto vedere, più di un anno fa, questa scena a mio figlio, che era piccolissimo all'epoca, aveva due anni, parlava molto poco, e quindi da quel momento, però, ogni volta che mamma è in tv, mio figlio mi chiede, e piangi? Perché la scena è andata così. Perché avevo promesso che avremmo parlato anche dell'altro figlio, cioè di suo figlio, del figlio di Maria Teresa. Ovviamente lo faremo tra poco, i bambini che sanno fare delle fotografie perfette, i bambini che poi diventano grandi, come Nicola, e che tornano. Guardate un po', pochissimo vi facciamo vedere, pochissimo, pochissimo, canonico, seconda serie. Uè, fermo là. La prima fetta è per Nicola. Ah, ma non è quella. Bisogna aspettare. Eh, certo. Quanto bisogna aspettare? Eh, che ne so, secondo me si è perso, Bruno, perché doveva stare già qua. Quello, Rocca Spera, è un labirinto. Il ragazzo, è abituato alla Germania, tutte le strade dritte, tutto precise, si è perso. Il ragazzo è bravissimo. Poi, oh, la canonica una ce n'è, guardate un po' chi vi ho portato. Bello! Nicola! Vieni qua. Quanto sei bello. Nicola. Bruno, giusto? Sì. Perché siete tanti qua, mi devo ricordare i nomi di tutti. Eh, Nicola, tu stai pure tutto sudato, fa calda, ma me lo so. Allora, ma sai che facciamo? Tu prendi lo zaino e noi ci andiamo un attimo a casa così Nicola si fa una doccia. Che senso. Allora, è lei, è lei, è Angela, in questa scena in cui, beh, insomma, Bruno è quest'uomo dolcissimo. Dolce, buono. Buono. È un po'... Sì, è proprio... È un po' ripagare Angela di tutto quello che ha fatto. Sì, è un grande regalo che la vita ha fatto ad Angela, questo incontro con Bruno, con Federico Perrotta, che è un attore straordinario, è un bellissimo compagno di scena. E in questa scena che abbiamo visto si vede proprio tutta la difficoltà di questa donna, comprensibile, questa difficoltà comprensibile in cui lei si trova perché... come glielo dico come glielo dico che la mamma ha trovato finalmente un po' di felicità. Ha paura di sbagliare e quindi di... insomma, sta lì... Secondo me, Nicola avrà già capito tutto, però non lo so, non lo so, assolutamente. Non svegliamo nulla, chiaramente. C'è... C'è anche in questa seconda serie ci sono tante salite, no? Da affrontare, anche ovviamente per Angela. Però c'è questo senso di comunità, questa... è un po' la squadra di Canonico, no? La squadra, intendo dire, non gli attori che lavorano, i personaggi. È la squadra delle persone, è la comunità che alla fine aiuta anche chi sta salendo... Sì, sempre a turno. E lo spinge, insomma, ecco, gli dà una mano. Sì, uno con l'altro. E questo... questa cosa si nota... si racconta ancora meglio in questa seconda stagione, perché abbiamo un tempo e uno spazio più ampi per farlo. E quindi, questo è un aspetto molto bello, che a turno ci si aiuta. A turno qualcuno sbaglia, qualcuno è in difficoltà, qualcuno mostra una fragilità, però c'è sempre qualcun altro che tende una mano, che è lì pronta... Insomma, questo è molto bello. Ma non è... non è il senso della vita, questo. Quando le difficoltà ci sono e ognuno, no, aiuta l'altro e poi viene aiutato. Ci fermiamo soltanto per un attimo, ma quando dico un attimo, dico un attimo e ritorniamo per qualche anticipazione su Canonico questa sera 20.55 TV 2000. Grazie, a tra poco. Grazie. 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 Una serie Map to the Stars in collaborazione con TV 2000 ideata e scritta da Peppe Toia che ringraziamo. Ha avuto un'eccellente idea questa sera 20.55 su TV 2000 Canonico, la seconda serie. Lo dico sempre con un piacere questo fatto che sia la seconda serie. Perché? con noi Maria Teresa Pasquale. Grazie. Grazie infinite. La Angela Perpetua che con quel fare un mezzo fra il brusco, il dolcissimo, il... Ma ti pare che questa cosa bella stia capitando a me? Fa parte di questa grande squadra e comunità. L'ho chiesto prima se questo personaggio tu lo ami e tu hai detto sì, ci sono molto legata. Quanto c'è di te, del tuo modo di essere a disposizione degli altri, del tuo carattere dentro questo carattere, dentro questo ruolo? C'è questa cura per l'altro, per l'altro, che penso sia poi la forza di un certo tipo di rapporto, dei rapporti umani, non dico soltanto del rapporto madre-figlio, del rapporto di coppia, è proprio quello che sta sotto al rapporto umano, no? E anche questa cosa penso che Angela l'abbia però ancora più esercitata, come dire, migliorata in questa vita quotidiana che affronta nella canonica. Tu sei così accudente anche con le persone che ami, sei così attenta? Più accudente e attenta. E attenta, esatto. Anche prima, non tagliare la torta perché... No, quindi lei è brusca, è buffa, è brusca, loro sono buffi, sono buffi, sono teneri, perché poi non sanno, allora cercano il modo e io da attrice trovo molto interessante confrontarsi con l'inadeguatezza, col cercare il modo di essere giusti. Forse è più bello ancora un personaggio così, perché lo devi... Lo riacchiappi, cerca il modo, una volta sbaglia con uno, poi sbaglia con l'altro, però contemporaneamente poi trova la strada giusta. Senti, non ha sbagliato invece, io so di una... Come dire, tutti noi abbiamo un maestro al quale dire grazie, è una tua maestra di teatro, insomma, tu hai iniziato, hai deciso di fare l'attrice e qualsiasi cosa tu volessi fare al posto dell'attrice hai fatto bene a fare l'attrice, questo è un commento sincero come pubblico. Passiamo, come sempre, ovviamente Maria Teresa Pascale intendo dire, come sempre succede ai grandi attori, è passata dal teatro, è teatro, perché poi il teatro non si passa, non è una cosa che... Non è una stazione della metropolitana, no? Ecco. Però il teatro è teatro, è un'altra cosa rapportarsi a teatro con il pubblico e con una storia. Beh sì, c'è un altro tipo di rapporto. Un altro tipo di rapporto. Quando hai proprio capito ci sono e la mia vita, la faccio, continuo? Posso dirlo, avevo forse quattro anni, non sapevo ancora leggere. Meravigliosa. Sì, ho parlato presto, però non sapevo ancora leggere. È meraviglioso. Posso dire, avevo, io aspettavo, no? Un'età, avevo quattro anni, non so? Sì, sì. Come? Ma perché? Allora, perché i miei, per tenermi buona, ero una bambina buona, molto tranquilla, ma i miei, per tenermi buona, mi facevano vedere in continuazione, cosa che a me piaceva molto, gli spettacoli teatrali, in video, però, di Edoardo De Filippo. E io all'età di quattro anni, conoscevo i ruoli a memoria. Ah, capisco. Ma proprio, ma i protagonisti, cioè la facevo tutta a memoria. La facevi tutta a memoria? Sì, 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 con dei tempi perfetti. Bisogna baciare sulla fronte, genitori così, perché, certo, intrattenere una bambina di quattro anni con il teatro di Edoardo è una grande, splendida idea. Infatti, dobbiamo tutti dire grazie a Edoardo, che ci ha fatto conoscere il teatro, anche dove il teatro poi non sempre c'è. E poi, comunque, la mia è una compagnia stabile, pur non avendo a che fare con l'arte. Nessuno dei miei diciamo fa questo di professione, ma neanche per hobby. Però si muovono e agiscono come una compagnia di teatro stabile napoletano. Ci sono i caratteristi, gli innamorati. Quindi basta stare a casa e guardarli e ascoltarli. E ascoltarli. Ascoltare i suoni, i tempi. D'altronde, veniamo da una civiltà che ci ha insegnato tanto sul suono, sul teatro. Io mi dico che vengo dalla Magna Grecia, d'altronde è così. Vengo da Salerno, insomma. E quindi, dei suoni, dei modi sono... Ti ho appena detto una cosa di quelle che colpiscono al cuore. Brava, hai ragione. Vieni dalla Magna Grecia. Questa cosa c'è. Pesa. C'è anche quella c'è nei rapporti, nell'ospitalità. Tu prima mi chiedevi la cura, l'attenzione. Ma quella è una cosa antichissima. L'ospite è sacro. Che bella ragazza. Mamma mia. Non solo bella, ma bravissima. Sì, mi riferivo ad una sua insegnante in particolare, ma se abbiamo tempo entreremo poi anche nei meandri della sua vita. Comunque, si chiama Tommaso, è il suo bimbo vero. Quello vero piccolo. Tommaso. Sappilo, tu sei bimbo di mamma. Però Nicola è buone. Me l'ha chiesto. Come si chiama? Nicola. Ma è grande. Dico sì, poi ne parliamo più in là. Ne parliamo più in là. Non ti preoccupare. Angela e Nicola, allora mamma e figlio sulla scena, laddove il piccolo Tommaso ci stesse seguendo. Sai com'è? E vediamo. Canonico, seconda serie. Sono così dispiaciuta per Gianluca e per i cugini. Deve essere una situazione intollerabile. Sono sembrati così dignituosi nel loro dolore. Lo sai, quando eri piccolo non mangiavi mai. E io avevo sempre paura che non crescessi, che non stessi bene. Ma voi madri siete fissate con il cibo tutti di tutte. Arrivo oggi la prima cosa che mi chiedi hai mangiato. Che devo fare più forte di me? Senti, tu non lo sai che significa voler bene un figlio. E forse io neanche te lo so spiegare. Poi secondo me la parola amore è riduttiva. Bisognerebbe inventare un'altra parola, più grande. Fortuna che ho la mamma bella. Senti, a proposito d'amore, ma in tutti questi anni tu hai mai trovato un amore? un compagno intendo qualcuno che ti vuole bene? Eh, Nicola, lo so che non sono a fare i miei, però mi dispiace vederti sola. Che meraviglia. Ma che bella. Che imbarazzo. Quale vorrebbe dire però che faccio? No, che fa? Guardatevi canonico questa sera alle 255 su TV 2000. Non ve lo diciamo, guardate, neanche se ce lo chiedete per favore. voi, carissimi, che parola dovrebbe inventare una mamma per descrivere l'amore che si prova da mamma verso un figlio? Quante cose ci dovrebbero essere? Cioè, quante parole dovrebbe comprendere questa parola? contenere. Quante emozioni, quante sentimenti, quanta appunto la cura, la preoccupazione, l'entusiasmo però anche, perché poi ci concentriamo sempre sul lato apprensivo, sul lato ti sei messo la maglia pesante, hai mangiato, non prendere freddo? Quante cose belle hai fatto oggi, quante volte hai sorriso, no? È stupenda la nostra Angela, perché ha proprio gli occhi da mamma, ha proprio gli occhi che brillano quando parla di un figlio che sia suo figlio, Tommaso, che sia suo figlio Nicola. Brava, tanto brava, ma questo lo sappiamo insomma, non lo scopriamo oggi. Che rapporto c'è con Don Michele? Un bel rapporto improntato così bene fin dall'inizio, prima parlavamo di questa mia prima scena e qui e poi quest'anno in cui si raccontano come dicevamo tante difficoltà di tanti personaggi differenti, ciascuno di noi vivrà il suo percorso e anche con Don Michele sa dirle le parole giuste, la sa ascoltare, la sa ascoltare anche quando lei non parla, vede gli sguardi, capisce gli sguardi di Angela. Ha tanti sguardi Angela, molto di sguardi. Sì, anche però questa cosa è vicendevole. Anche Angela impara a guardare, impara ad ascoltare. Non c'è dubbio, non c'è dubbio e il nostro Don Michele, vabbè dai, il nostro Michele la ginestra, ha voluto mandare una cartolina, ha voluto mandare una cartolina sia ad Angela che alla signora Pascale, perché sono due cose uguali e meravigliose. Guardiamo. Cara Maria Teresa, sono contentissimo che anche esti alla promuovere questa splendida fiction canonico che ha avuto un enorme successo di pubblico, di gradimento. Volevo parlare di Maria Teresa, perdonatemi, però è proprio un artista a tutto tondo. Ho avuto il piacere di conoscerla tanti anni fa durante una rassegna al Teatro Sette che abbiamo fatto per giovani talenti, lei è risultata tra le vincitrici e adesso la ritroviamo come compagno di viaggio in canonico e è una bella soddisfazione. peraltro l'ho diretta ultimamente sempre per uno spettacolo a Teatro Sette è stato un piacere perché ha avuto consensi totali da parte di tutti. È un artista brava ma è una bella persona e questa secondo me è un privilegio che pochi si possono permettere essere bravi artisti e belle persone. Sono contento che stia da Poletta ma insomma tu prendi tutte belle persone perciò è giusto che sia là nel tuo salotto. Ciao un bacione Michele Caro a cominciare da te grazie è bello sentirsi dire queste cose è bellissimo e poi Michele lo conoscete meglio di me Michele non si risparmia non si risparmia in generale penso che non si risparmi mai come attore non si risparmia come regista come capocomico come collega io ho imparato tantissimo da Michele in queste due stagioni di canonico ho imparato tantissimo poi appunto ci siamo ritrovati a teatro abbiamo fatto questo spettacolo che è andato molto bene assieme è bello avere Michele la ginestra è molto bello che bella persona che sei Maria Teresa Pasquale oh grazie ma bella proprio bella 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 sai veramente bella e siamo tanto contenti che sia venuta a trovarci poi qualcuno non scherzandole dice smetti di fare la perpetua perché pare che sia proprio lì attenta a tutto e a tutti insomma hanno girato a Rocca Spera in maniera in maniera Rocca Spera ovviamente è il luogo in maniera bellissimo splendida e allora stasera 20.55 canonico seconda serie tv 2000 Maria Teresa Pasquale applausi applausi grandi 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 tanti andiamo a Locana in provincia di Torino noi da Rocca Spera vi vogliamo raccontare chi vive nei piccoli borghi li fa rivivere li cura insomma fa un po' la perpetua dei piccoli borghi per riallacciarsi al personaggio di Angela è una storia molto bella sono storie molto belle quelle che vi raccontiamo oggi lo dico con estremo orgoglio guardate sono Damiano Marasca un medico di famiglia in Valle Orco che è una valle che si trova in Canavese quindi a nord ovest di Torino ho imparato a conoscere questa valle durante il mio servizio di guardia medica nel lontano 2019 ho subito capito che era questo il posto in cui volevo restare rispetto a quella che è la realtà urbana secondo me i paesi di questa valle ma in generale i piccoli paesi sono una realtà più a misura d'uomo ci sono rapporti umani più stretti si sviluppano rapporti anche di amicizia e di solidarietà con i pazienti è un contesto nel quale il medico di famiglia può veramente fare la differenza forse è più simile al medico di famiglia che c'era un tempo rispetto a quello che è diventato adesso per il fatto che in questa valle siamo forse l'unico presidio sanitario la realtà montana comporta ad esempio il dover svolgere visite domiciliari in condizioni disagevoli in ambienti rurali in ambienti remoti dai principali centri urbani della valle e quindi ci si trova a dover raggiungere delle borgate delle frazioni in quota oppure raggiungibili attraverso i sentieri in mezzo ai boschi abbiamo raggiunto questa frazione in macchina adesso dobbiamo inoltrarci lungo il sentiero per raggiungere questo paziente che vive in mezzo al bosco capita di svolgere di svolgere visite domiciliari anche con pioggia vento neve grandine però fa parte del lavoro e forse ciò che rende il lavoro ancora più epico ciò che aggiunge sapore a questo lavoro il dottor il dottor Marasca per me è bravissimo guarda che non è da tutti i dottori è già passato due volte a vedere mio marito e io sono contentissima la gratificazione derivante dalla riconoscenza del singolo paziente fa sì che questo lavoro sia assolutamente piacevole da svolgere almeno nel mio caso e volevo espressamente questo che lo scopriste voi chi fosse il personaggio di questa vita nei piccoli borghi a qualcosa De Amicis avrebbe scritto un racconto su questo giovane medico giovane proprio giovane che con i suoi occhi blu decide di rimanere lì no? di aiutare e di fare il proprio lavoro allora c'è chi torna nella propria terra c'è chi resta nella terra d'origine e sono tante le iniziative per supportare comunque questa mi dispiace chiamarla tendenza diciamo questa questa buona regola che è scattata nella testa di tanti tra le tante associazioni voglio citare l'associazione scatola di latta che ha fondato la rete Daimon a scuola di restanza restanza lo andate a cercare sul vocabolario e sull'enciclopedia la restanza esiste ce la spiega Teresa Mariano una manager culturale con un passato la vedete da grande discografico ben arrivata grazie grazie per essere con noi che è tornata a Montagano Montagano in provincia di Campobasso intanto un luogo stupendo paese di origine della tua famiglia mio padre della famiglia di papà Teresa che cos'è questa restanza innanzitutto cioè tornare nei luoghi dove si è cresciuti stare nei luoghi dai quali si dovrebbe andare via e farli vivere nel modo migliore è rifiutare di andare via non è una malattia è un rifiuto rifiutare di andare via allora che cosa succede questa è la cartolina Montagano è questa allora da Campobasso come sempre dalla città andare poi nel paese dei nonni era la buona regola di tutti i bimbi già che tu porti una bimba la bambina che in te la porti appesa con molto orgoglio come ciondolo al collo ed era un luogo che amavi evidentemente lo amo ancora la mia famiglia vive lì anch'io passo spessissimo lì insomma quando posso lavoro concepisco che ne so mi vengono più idee mi vengono più idee eppure ovviamente se parliamo di essere discografici Milano è Milano altre grandi città però diciamo che tu sei sempre stata una molisana con la valigia posso dire così? diciamo che sono stata una pendolare perché comunque il mio lavoro di manager l'ho fatto sempre in Molise tra Montagano Campobasso e altri borghi perché curare l'artista è un altro lavoro la discografia invece è produrre un disco e quindi per cui ho fatto spola nel senso che curavo e tenevo gli artisti in ritiro e poi live produzioni interviste insomma si andava su ci si spostava su ci si spostava su allora guardate questa fotografia per esempio i Negramaro abbiamo un giovanissimo adesso arriva Giuliano San Giorgi che vabbè qui è meraviglioso però questa è una squadra di calcio non è una fotografia siete proprio siete tanti allora il concetto è questo per essere creativi per tu hai curato e curi tantissimi artisti la necessità di trovare un luogo eccolo qua un luogo silenzioso un luogo dove caricare e ricaricare se stessi fa sempre parte di questo concetto di restanza cioè vado a scegliere un luogo dove restare dove stare dove fare qualcosa di altamente creativo sì fa parte del concetto di restanza perché sono i luoghi dove puoi denudarti non hai responsabilità ti puoi rilassare quindi concentrarti maggiormente sulla tua vena creativa non voglio dire ti chiudi in seminario non voglio dire ti chiudi in collegio ma ti chiudi così con le persone con la signora che è incoronata questa è la prima locanda che ha aperto nel mio villaggio e quindi ho pensato bene di portare i ragazzi lì per più mesi a prepararsi spiritualmente anche perché non è facile così giovani affrontare il successo puntarci e riuscirci e quindi genuinità dal cibo all'amicizia alla naturalezza alle persone che incontri piedi a terra ecco possiamo dire piedi a terra allora noi con Teresa Mariano ci vediamo tra un attimo immagino che a Montagano ci stiano seguendo tutti in questo momento come nel meraviglioso Molise ma anche in tutta Italia come voi ci seguite non è un scappo della città ritorno a tutti i costi in quel luogo però è non dimenticare mai di tutelare i luoghi meravigliosi dove trovi parcheggio dove ti saluti per strada dove prendere il caffè è un'operazione lenta che meraviglia ci vediamo tra un attimo dopo la pubblicità grazie Teresa Mariano che ha un ciondolo bellissimo con una bambina dice per ricordare sempre la bambina che c'è in me ha sicuramente come bambina ha fatto una riuscita assolutamente perfetta un passato da manager discografico manager culturale continua ad esserlo e lo sarà per sempre ha deciso di tornare o se volete di non lasciare mai Montagano provincia di Campobasso siamo nella meraviglioso Molise i suoi sono seminari studi di management artistico creativo come intanto ben tornata ben arrivata non te ne sei mai andata guardate questa fotografia noi giustamente nel vedere questa foto ci siamo innamorati ci siamo beati perché è durissima questa foto questa foto racconta un modo difficile e complesso di vivere però il tuo Molise è anche questo diciamo gran parte dell'entroterra italiano questi erano anni in cui non c'era l'acqua corrente quindi le donne andavano anche d'inverno a raccogliere con queste tine l'acqua meno 5, meno 6 gradi non con i doposci non con i doposci ve lo ricordate il colonnello Bernacca quando ero piccolina io quel colonnello Bernacca ogni tanto c'era Campobasso non pervenuta perché faceva talmente tanto freddo che la temperatura di Campobasso e si intendeva il Molise non arrivava perché era è vorremmo sperare di averlo ancora oggi anche questo la risposta di questi abitanti o se vuoi dei figli di queste signore anche nipoti a vedere questa loro figliola che torna in sostanza non se ne va mai e che crea tutto questo grande parapiglia a Montagano insomma culturale musicale di attività di attività qual è stata? intanto è un villaggio è un paese molto artistico ha una storia io ho avuto la fortuna di nascere in un luogo ancora oggi c'è un coro una banda Don De Lillo il famoso scrittore i genitori erano di Montagano più Celestino V il papa del Gran Rifiuto a Faifoli questa chiesa di Campania che abbiamo giù è un paese di artisti quindi io di creativi quindi io sono cresciuta con la Proloquo Eventi eccetera e da lì mi sono portata dietro questa voglia di lavorare nel mondo della musica del teatro dell'arte questo è il coro per esempio e quindi è risultato naturale per me ecco molto naturale però è bello sentirlo dire puntare i talenti e dare una mano quando riesco aspettate quando riesce nel 2011 questa signora si dedica all'ideazione del progetto di promozione territoriale Molise Parco dell'arte delle arti in modo tale da trasformare in borghi artistici dei borghi che diciamo c'era tutta poi arrivano gli stranieri e dicono che meraviglia però se tu non trovi lavoro se tu non hai lavoro se non c'è una volontà devi andare di migliorare il luogo te ne vai e invece tu stai da tempo facendo la strada al contrario ma con una forte capacità attrattiva sì in pratica lavorando questi artisti è andata bene quindi sia con Roi che con Caparezza che non è Gramaro poi mi è sembrato logico ampliare questa passione cioè dedicarmi alle comunità anche perché le comunità hanno talenti a me piace stare nei paesini e quindi ho messo su questa impresa sociale insieme ad altri soci borghi artistici e quindi continuo con gli smac aiuto gli artisti e con borghi artistici aiuto le comunità le comunità a ritrovarsi a stare insieme a costruire bellezza e gioia anche perché c'è tanto bisogno di stare insieme bene secondo me Teresa siamo passati tutti per tutti noi per il covid no? sì e siamo passati per l'improvvisa necessità obbligo di far diventare i nostri condomini veramente luoghi nei quali cominciare a capire chi abitasse al piano di sotto cominciare a capire fare scambi di libri sempre lasciando tutto in pulizia totale non toccando le cose però questo poi la gente se lo dimentica in fretta ma questo nei piccoli paesi è stato un acuire ancora di più quel senso di vicinanza di solidarietà non è un voler raccontare poesia a tutti i costi però è diverso lì il modo di vivere e di capire le cose ed è il 70% dell'Italia questa è la nostra pineta dove abbiamo fatto un sacco di anche lì attività artistiche lì ho cresciuto pure Negramaro ho cresciuto in Negramaro quanto è bella sì proprio perché è un atto d'amore sicuramente il covid ha dimostrato che l'Italia ha bisogno di curare e tornare a dare importanza all'entroterra primo perché lì ci sono le risorse ma secondo perché è gran parte del nostro territorio e il covid credo che alle piccole comunità abbia dato più dolore perché c'è più abitudine a toccarsi a uscire insieme a conoscersi sì e sono mi dispiace perché c'è stata solitudine sicuramente poi ci sono anziane le comunità i giovani la gran parte sono già andati via però ci pensi tu a farli rientrare non solo io c'è tantissima gente non solo lei però diciamo che insomma Teresa Mariano è molto molto attiva lei continua a dire li ho cresciuti in Negramaro quanto tempo sono stati se c'è una tempistica che possiamo dare cioè Montagano per quanto tempo li ha accullati e preparati nel loro lavoro normalmente c'è bisogno di almeno tre anni per considerare apprenditi degli artisti che sono quasi sconosciuti ci vuole un triennio quindi così per Roy così per Caparezza e loro hanno frequentato quindi il villaggio per tre anni che meraviglia allora siccome però ovviamente Montagano è meravigliosa ma Teresa Mariano ha una forte attitudine a spostarsi anzi credo anche che viaggi con valigie molto leggere perché quello che conta e che deve pesare è ciò che porta in testa come idee a Roma Università La Sapienza lei si occupa del progetto Uno per tutti tutti per uno che è bellissimo ma poco ha a che fare con i moschettieri se non per il titolo e invece riguarda che cosa? è proprio questo cioè al di là degli artisti andare ad aiutare le comunità con progetti che sviluppi con i quali sviluppi il loro talento nel caso di tutti per uno abbiamo lavorato a San Lorenzo pensa che bella cosa e abbiamo San Lorenzo quartiere di Roma quartiere di Roma 15 disabili cioè allievi comunque della sapienza universitari con loro abbiamo mappato tutta San Lorenzo e abbiamo contattato tutti i commercianti che loro frequentavano abitualmente sai dal panino al caffè e abbiamo indicato dove c'erano barriere architettoniche che si potevano risolvere senza troppo tempo o denari e quindi sono i commercianti stessi hanno ricevuto un bollino da tutti per uno e hanno messo su uchi hanno facilitato la vita di questi studenti è stato un piccolo esempio di come comunità imprenditori creatività dei ragazzi si possano raggiungere dei risultati utili anche perché in Molise anche gli uomini parble ma le donne sono tenaci lo dico con orgoglio perché sono amica di molisane e molisani assi e le donne sono molto tenaci in Molise e dal loro Molise dalla loro Montagano irradiano tenacia ovunque Teresa Mariano quando andate a Montagano cercatela se siete fortunati la troverete grazie 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 di essere stata con noi grazie Teresa e adesso di paese in paese andiamo ci spostiamo andiamo nella regione Abruzzo ma voi lo sapete che le montagne sono in movimento in movimento guardate grazie a tutti allora Gagliano Aterno siamo in provincia dell'Aquila quindi dal Molise siamo saliti in Abruzzo è un paese medievale origine romana meraviglioso incantevole l'avete visto immerso nel verde del parco regionale Sirente Velino con un castello perfettamente conservato costruito nel 1328 passò da lì anche San Francesco d'Assisi Andrea Fulgenzi lo so è un ragazzo però è un ragazzo è un signore però ragazzo va benissimo originario dei castelli romani ha scelto di svolgere il suo dottoranno in geografia economica all'Università dell'Aquila nel percorso di dottorato in aree interne e quindi grazie anche perché chi poi si sposta giovane all'Aquila a studiare rende sempre questa meravigliosa città ancora più viva e l'Aquila ne ha sempre bisogno dunque che cosa sono le montagne in movimento? Dunque montagne in movimento è il nome dell'associazione che ha creato questo diciamo progetto gagliano cioè insomma è l'associazione di cui fanno parte il gruppo di antropologi ricercatori sociologi che sta portando avanti questo progetto di neopopolamento di concerto con l'amministrazione locale e con i cittadini allora siamo di fronte da tempo allo svuotamento di questi di questi paesi di questi borghi quando sono borghi di questi luoghi che sono meravigliosi pensare di riportare vita significa chiaramente ragionare su che cosa farà accadere dentro questi luoghi perché si va a vivere in un luogo quando c'è qualcosa già il turismo basterebbe perché meritano visite su visite su visite però non è l'unica materia della quale voi vi occupiate sì infatti il dottorato comunale che svolgo il Gran Sasso Science Institute cerca proprio di fare questo cioè di cercare di fare in modo che un'università come il GSSI e l'amministrazione locale di Gagliano ma come anche di altri comuni che fanno parte dell'area interna Gran Sasso e Valle Subbequana possono cercare di creare delle strategie di sviluppo locale che non si basino solo su un uso anche consumistico del territorio un turismo che viene mordi e fuggi insomma quando ho detto turismo mi ha guardato male guardate mi ha guardato malissimo e ha ragione solo turismo no grazie no grazie ma molto di più però però Andrea questo borgo è bello da qua quindi figurati camminando all'interno questo paese chiedo scusa che caratteristiche ha? cioè popolazione anziana? allora sono circa 250 abitanti residenti di cui nella vita quotidiana siamo intorno ai 200 ovviamente ci sono persone che hanno la residenza ma non vivono lì in pianta stabile e cosa succede a Gagliano? succede di tutto insomma che bello quando sono lì non riesco ad aprire il computer per tutte le cose che faccio in cui collaboro insomma insieme alle ragazze di Montagne e Movimento qui vedete delle foto per esempio questa è una delle tante assemblee pubbliche che svolge l'amministrazione sono stati fatti dei percorsi insieme alla comunità dei residenti anche per cercare di immaginare qual è il futuro uno dei futuri possibili chiedere anche a loro chiedere a chi ci vive in pianta stabile cioè che cosa fare per migliorare sì ma è quello alla fine il noccio della questione quello che facciamo anche come ricercatori è cercare di sicuro di arrivare lì in questi posti in questi paesi cercando di di conoscere soprattutto le cose di cui stiamo parlando le persone con cui parliamo senza ecco la torre d'avorio è questo alla fine stabilito che arrivano dei ragazzi educati per bene bravi come voi con delle idee per migliorare e secondo me scatta subito l'adozione cioè sarete come minimo avrete scoperto di avere tanti nonni tante zie tante persone che io credo vi passino anche il senso di gratificazione dell'essere messi al centro dell'attenzione giusto? sì c'è da dire che il Gagliano ha di per sé una storia di accoglienza come anche crocevia di molti percorsi di molte tradizioni come la transumanza quindi sono comunque posti che hanno visto passare tantissime persone dove l'accoglienza per l'ospite era il primo punto di partenza e anche oggi lo vediamo nelle persone con cui parliamo indipendentemente dall'età ovviamente indipendentemente dall'età parlavamo poco fa dell'ospite che è sacro no? insomma il tema rimane sempre quello è brutale chiederlo così in un minuto ma una cosa che avete fatto cioè in pratica la vostra azione come si è svolta e come si svolge? dunque attualmente sono arrivati poco tempo fa sei nuovi ragazzi che fanno parte del progetto Neo che è una scuola immersiva di sei mesi quindi questi ragazzi che qui vedete una delle lezioni dell'anno scorso che svolgono e quello che fanno è venire in questi in questi paesi abitarci per sei mesi alcuni di loro che vedete in questa foto sono rimasti l'idea è appunto di cercare di capire cosa significa svolgere una vita in questi paesi svolgere anche attività di ricerca se vogliamo vivere con la comunità aiutare la comunità il progetto che c'è dietro immaginare le cose che mancano i desideri che ci sono dietro alle vite delle persone ma quindi Andrea le montagne in movimento indicano proprio questo cioè per movimento si intende non è un percorso a piedi ecco questo vorrei che fosse chiaro sono le montagne che si muovono nel senso che voi portate in realtà di paese in paese questa vostra buona idea se io rimango già avete visto l'aula poco fa l'aula era un cortile era un cortile quello un cortile interno un cortile interno meraviglioso un conto è fare lezioni nobilissime le aule al chiuso ci mancherebbe altro ma un conto è pensare di studiare così no? insomma è un po' più aperto le persone quando i locali gli abitanti quando vi chiedono un sogno una cosa che vorrebbero vedere realizzata cosa vi chiedono di più statisticamente? beh di fare qualcosa per i figli parlando con le varie amministrazioni locali la sindaca di Castelvecchio Calviso ad esempio mi aveva detto io vorrei fare qualcosa per i miei figli e per i loro figli stessi una cosa che cerchiamo di fare soprattutto è quella di fare in modo che ci sia quanto più possibile un dialogo tra le persone che si sono trasferite recentemente alcune ma anche soprattutto da Roma e tra le persone che abitano il luogo certo perché è quello guardate quello poi sapete un conto è partire per andare a lavorare fuori perché vuoi farlo un conto è perché devi farlo quella continua a essere molto dirimente insomma divide molto la cosa chi è rimasto a Gagliano Aterno è Luca Santilli che è il primo amministratore nella regione Abruzzo giovanissimo sindaco insomma è il sindaco giovane 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 si fa assegnare una borsa di studio per ospitare il primo ricercatore del progetto e ha questa buona idea adesso la squadra quanta è salita? siamo intorno alle 10 persone circa in pianta stabile considerando poi anche i ragazzi del progetto neo una squadra di calcio con le riserve con le riserve una squadra di calcio fantastico allora fischio d'inizio per questo messaggio di un minuto del sindaco Luca Santilli sentiamolo anche lui ci parla di montagne e movimento però lui lo dice da sindaco guardate e subito dal 2021 ho avviato in paese un progetto e un processo di rigenerazione e neopopolamento lo abbiamo fatto inizialmente investendo nella formazione quindi portando qui a vivere in paese dando loro una casa degli antropologi di un'organizzazione che si chiama Montagne in Movimento e subito dopo attraverso diverse assemblee percorsi partecipativi con gli abitanti abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama NEO Nuove esperienze ospitali cioè una cola a livello nazionale per portare qui ragazzi che volevano fare una scuola immersiva che vogliono fare una scuola immersiva sulla transizione ecologica e sull'antropologia alpina e grazie a questi due processi abbiamo generato flussi importanti ed attualmente circa 20 neopitanti grazie a tutti voi ma grazie a lei sindaco quanti anni ha questo sindaco? meno di 40 non vorrei fare spoiler insomma giovane quanto basta Andrea Fulgenzi per esempio la nuova energia l'energia pulita sì siamo Gagliano Eterno è uno dei primi paesi che ha avviato questo processo della comunità energetica l'idea è quella anche alla luce purtroppo dei fatti di questo periodo della guerra in Ucraina della crisi energetica ci siamo resi conto che effettivamente c'è un modo per produrre energia anche magari in maniera un po' più indipendente e su scala più piccola utilizzando spazi comuni guardate voglio dire questo è il tetto di un fontanile medievale e sullo sfondo c'è l'orto che alcuni dei neobitanti stanno ripurando e stanno organizzando ed è una comunità energetica per cui i cittadini diventano produttori di energia ma anche consumatori stessi e quindi c'è anche comunque un ritorno economico per le persone che abitano ed è un progetto molto bello che si sta comunque sviluppando anche in molti altri posti lungo tutto l'Appennino e tutta Italia lei è contento di questo lavoro che sta facendo? sono molto grato una faccia felice sono molto grato del fatto che grazie all'università posso fare questo progetto di ricerca che mi cala così tanto nelle comunità e nei territori Andrea Fulgenzi è un ragazzo educatissimo che studia e studia per migliorare i luoghi dove noi viviamo più solare di così a parte che è solare dobbiamo ragionare su questa cosa del solare anche noi come energia pulita grazie grazie Andrea grazie mille di essere stato con noi questa è l'ora solare signori grazie a tutti 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 grazie a tutti